Notte di fermento negli abitati di Città Nova, Tauria Nova e Rosarno interessati all'operazione Game Over, indagine coordinata dalla Procura di Palmi, diretta da Emanuele Crescenti e dal sostituto procuratore Davide Lucisano e poi condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria con cui si è fatta nuova luce sullo smercio di sostanze stupefacenti nella Piana di Gioia. L'indagine denominata dai carabinieri Game Over prende il nome dalle precedenti operazioni condotte nel territorio pianeggiano dai carabinieri del gruppo di Gioia Tauro, coordinati alla locale Procura negli ultimi anni hanno eseguito numerose attività antidroga con centinaia di arresti e tutto il territorio nazionale ed ingenti sequestri. Fra questa l'indagine New Age nel gennaio del 2023, Smart Delivery nel ottobre del 2023 e poi Perseverance a febbraio del 2024. Oltre ai sequestri di circa 3.000 kg di cannabis avvenuto lo scorso mese di ottobre in una zona retrostante il Porto e il recentissimo di 190 kg di marijuana che ha portato all'arresto di un cittadino rosarnese un paio di giorni fa. Con queste operazioni i carabinieri hanno documentato la stretta connessione fra gli indagati di New Age e Perseverance e gli arrestati di questa notte, tutti coinvolti in compravendita di narcotraffico. Questi ultimi sostengono gli inquirenti nelle quasi 500 pagine della misura cautelare avrebbero dato vita a due piazze di spaccio che in parallelo gestivano la vendita del dettaglio di vari tipi di droga nei centri storici di Città Nova e Taurianova. Le telecamere investigative installate dai militari dell'arma infatti hanno ripreso un traffico costante di acquirenti che a tutte le ore del giorno e della notte si recavano a comprare dosi di acici, marijuana e cocaina nelle abitazioni in cui avveniva lo spaccio. Sulla bassa degli elementi di prova così raccolti, secondo l'ipotesi dell'accusa sposata dal GIP di Palmi che ha firmato l'ordinanza cautelare, si è ritenuto che gli indagati, grazie a fonti di approvvigionamento sul territorio nazionale e all'estero, siano coinvolti in oltre 80 episodi di cessione, acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti in un profitto complessivamente calcolabile in 500 mila euro. A incidere sulle valutazioni effettuate dal GIP di Palmi in merito alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli arrestati è stato il valore probbiatorio di numerosi recuperi di varie sostanze stupefacenti in primis cocaina e marijuana realizzati dagli investigatori. In particolare il giudice ha ritenuto di fondamentale importanza l'arresto nel corso dell'attività di due degli indagati. Il primo era stato trovato in possesso di cocaina e marijuana all'estero di una perquisizione personale domiciliare, il secondo bloccato nel tentativo di far giungere una fornitura di cocaina a una delle piazze di spaccio monitorate. Quest'ultimo inoltre aveva provato a deludere i controlli dei carabinieri nascondendo lo stupefacente all'interno dell'impianto di climatizzazione della propria autovettura. Però non aveva fatto i conti con Enno, il mitico cane del nucleo dei carabinieri cinofili di Vibo Valencia che non appena salito a bordo della macchina aveva dato segni di gioiosa inquietudine arrivando a trovare un panetto di cocaina. La successiva perquisizione fatta al negozio di animali gestito dall'indagato aveva poi permesso di trovare anche 4 kg di marijuana.